Scalmanati, oh pirati scalmanati, sebbene io sui nostri social sia conosciuto come il capitano dei burloni, avevo dimenticato di caricare uno dei tutorial più importanti e strampalati di CODivs, quello per ottenere il set della Baldoria che in questo momento indosso. A suggerircelo è stato il nostro Aloysius Finis, il nostro tatuatore di bordo. Per conquistare questo set dovrete eseguire questi semplicissimi step che fanno parte delle onirficienze dei tesori sepolti. Per quanto riguarda le prime, occultatori di tesori segreti e di scorte considerevoli, non dovrete far altro che sotterrare i tesori in giro per le varie isole, questo per il primo step, mentre per il secondo dovrete nasconderne 5 per isola. Nascondete tutto ciò che vi capita a tiro in mare e sulle isole. Onirificenza, benefattore. Una volta che avrete nascosto il mondo per le varie isole di CODivs, o la cosiddetta monnezza come uscita la nostra capitana furiosa, ricordate che potrete regalare i vostri tesori ai più fortunati, fregiandovi per l'appunto di benefattore. Trovate una bacheca in un avamposto o in un posto marittimo e cedete le vostre mappe. Colpo d'avvertimento. Vicini ad una nave nemica, recuperate un razzo segnalatore rosso o bianco e fatelo esplodere in cielo. Nulla di così complesso, ma noi non ci assumiamo nessuna responsabilità per aver attirato l'attenzione nemica. Appicco con la nave. Nulla di così semplice. Spawnate con un galecone, sedetevi sul trono nella cabina del capitano e lasciate semplicemente affondare la vostra nave. Ecco fatto. Le onorificenze di momento di riflessione e un nuovo giorno fanno parte di uno dei nostri tutorial intitolato Onorificenze Vette. Dategli un'occhiata per completarle tutte cliccando sul link in alto a destra. Una serie prestigiosa. Per questa onorificenza dovrete recarvi nella Shorts of Gold per i suoi possessori della Shorts Breaker completa. Oppure fatevi prestare il checkpoint da qualche amico. Tuttavia dovrete comunque battere il cacciatore d'oro. Dopo averlo sconfitto potrete immortalare la vostra impresa sedendovi sul suo trono ed inviandoci una vostra foto sul nostro social di Instagram che sarà caricata da Capitan Frozen Grave. Un trono d'oro. Ricordate la storia assurda di Jack Sparrow, Capitani dei Dannati? Ebbene, come da video dovrete sedervi sul trono della tesoreria. Se non conoscete questa storia o come arrivare in questo punto seguite la nostra guida di riferimento cliccando sul link in alto a destra. Lancio perfetto. Dovrete fare un lancio con l'emotico D20 che potrete selezionare dal forziere delle vanità. Inoltre dovrete far uscire con un tiro fortunato la faccia numero 20. Questo è per tutti gli amanti come noi di Dungeon & Dragons. Sappiate che un dado simile lo abbiamo spesso usato per dividere i tesori con i nostri alleati al posto di usare i soliti cannoni. Adesso che abbiamo sbloccato tutte le onorificenze da qualsiasi avamposto recatevi dal vendor degli abiti ed acquistate tutto il set e preparatevi a far baldoria con la vostra ciurma. Sappiate inoltre che potrete selezionare gli abiti e gli oggetti dai forziere esternamente esposti o dalla vostra nave. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A presto e a proposito passate a salutarci sui nostri social discord e facebook per salpare tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.